L'Inter si trova in un momento delicato tra infortuni, assenze e covid. Il club nerazzurro ha già collezionato sette positività e se la guarigione di Bastoni e Nengolan avevano migliorato la situazione, il tampone positivo di Achimi ha fatto ripiombare la dirigenza a Meneghina nello sconforto. Anche l'infermeria ha iniziato ad affollarsi. Alexis Sanchez si è infortunato durante il match contro il Borussia Mönchengladbach, mentre Sensi potrebbe anche essere presente contro la Genoa, ma probabilmente partirà dalla panchina. Antonio Conte si ritrova a dover partire per la trasferta a Marassi con il gruppo squadra mutilato, senza Achimi, Radu, Gagliardini, Skrignar e Young, oltre a Vecino, che tornerà tra circa un mese. Ma anche se la situazione è difficile, il tecnico De Meneghini mantiene l'ottimismo, in vista di un delicato periodo che potrebbe già delineare le sorti di questa annata. La paura di ospitare un focolaio si insinua nell'ospedatorio della Roma. Dopo Giavara e Calafiori, infatti, anche Gianluca Mancini è risultato positivo al coronavirus. Il difensore ha scritto su Instagram, ciao a tutti, sono risultato positivo al coronavirus e di conseguenza mi sono aggiudicato la quarantena. Fortunatamente mi sento bene e sto già facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo. A presto e forza Roma. Il club giallorosso ha già contato quattro casi nell'Under 17, due nell'Under 18, uno nella primavera e oltre dieci nella primavera femminile. L'8 dicembre si chiuderà il gruppo G di Champions League con la super sfida al Camp Nou tra Barcellona e Juventus. Una partita che a sorpresa potrebbe essere giocata davanti al pubblico catalano. Il club blaugrana, infatti, avrebbe inviato alle autorità sanitarie locali un protocollo di sicurezza che possa consentire l'ingresso fino a 5.000 spettatori al Camp Nou. Protocollo che si applicherebbe alla sola Champions League, visto che a Madrid il governo nazionale non intende per il momento riaprire gli stadi in campionato. Luka Jovic potrebbe pagare caro la folia d'amore compiuta lo scorso mese di marzo per partecipare al compleanno della fidanzata. Infatti, l'attaccante della Real Madrid avrebbe violato il regime di quarantena per recarsi in Serbia dalla propria ragazza. Una vicenda che potrebbe costarli ben sei mesi di carcere, almeno stando alle richieste del pubblico ministero. Una notizia, di certo non positiva, che si aggiunge al già difficile periodo che il giocatore sta attraversando dentro il rettangolo verde di gioco e che arriva dopo il KO interno in Champions League del Real Madrid contro lo Shakhtar Donetsk e, a pochi giorni, dal classico contro il Barcellona di Lionel Messi.